Un gemellaggio spontaneo nato in questo che l'Italia intera ricorderà come un ferragosto tragico. Padova legata a Genova da una solidarietà che proprio durante i fuochi di Prato della Valle si è trasformata in un'iniziativa concreta. Una raccolta fondi con un IBAN dedicato in cui tutti i cittadini possono versare il loro contributo. Lo stesso sindaco Sergio Giordani aveva da subito manifestato la sua vicinanza a Marco Bucci, sindaco del capoluogo Ligure. Un SMS in giornate convulse e difficili. Poche ore fa una lunga e cordiale telefonata tra i due per assicurare vicinanza, ma anche per capire come potranno essere usati i soldi della generosità dei padovani. Fondi che saranno affidati all'amministrazione di Genova e probabilmente andranno a sostenere l'emergenza abitativa per gli sfollati dopo il crollo del Ponte Morandi. Cittadini e famiglie padovani adotteranno cittadini e famiglie genovesi e per questo allora il sindaco Giordani chiede a tutti un contributo di generosità. Lancia un appello a tutti i padovani e a tutte le realtà che lo desiderano. Chi può ci dia una mano a mostrare coi fatti il grande cuore della nostra città. Anche un piccolo aiuto diventerà un atto concreto in favore di questi nostri fratelli di Genova.